Ciao a tutti, sono Spiegeronautato e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete siamo su Techcraft, nella scorsa puntata abbiamo trovato il posto in cui creare la nostra nuova casa, la nostra prima casa. Nel frattempo abbiamo creato questa specie di casetta, casetta cagatina ecco, per poggiare un po' di roba. La mia idea principale era quella, ed è tuttora quella di creare due fiumiciatoli di lava, che vanno una a sinistra e una a destra, e al centro fare un'entrata per la mia casa. Sarà un po' difficile da creare, però ci proverò, non dico che ci riuscirò perché non ci riuscirò, probabilmente morirò 50.000 volte. Ok, allora l'idea è questa, ho preso un po' di terra, cioè ho preso la terra che avevo conservato nella nostra casa, tra virgolette. Adesso riempirò tutta questa parte in modo tale che la lava, che si crea una deviazione da lava verso tipo così, un po' a cacchio di cane. Ehm, allora, vediamo un po' cosa succede, boom. Allora, piazziamo qui, no, 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 no. Allora, devo deviare ancora un po' di più perché l'entrata sarà proprio centrale, quindi come capite, come capirete mi serve almeno tipo due blocchi di larghezza. Ma direi anche di rompere qui, così scende di più, attento a dove cammini, spiegherò un tutto. Ehm, così, così, direi di allargare un po' anche qua. Allora, facciamo un po' di terraforming, era da molto che non dicevo questa parola. Ehm, vediamo un po' come scorre, direi di fare un po' così. Olè, dai, scorri. Scorri, ti do il permesso. Dai. Perché non scorre come vorrei? Allora, vediamo un po' cosa succede. Oddio, che ansia. Dai, dai, dai. Ti do il permesso, dai. Scorri come non hai me scor... Sco... Scorretto, no, ok. Scorri come non hai... Che italiano proprio. Ah, beh, certo. Lì, là dietro c'è un cacchio di buco. Come posso fare per tappare quel buco? Quel bucaccio? Oddio, santo, devo stare attento a dove cammino. La domanda è... Ma come faccio a chi separare la roba? Cioè, la... Capito, la... La... Allora... Pa, 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 pa. Vediamo un po'. Proviamo a... A ridurre il campo della... Della lava per un momento. Oddio, sono un po'... Mi trovate un pochino... Indeciso sul cosa... Sul da farsi, ecco. Io direi, innanzitutto, di andare a dormire, che... Quei bastardelli mi uccidono come niente. Ole. Dai, 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 dai. Dai, ok. Poi, poi, poi. Sto per... Per rinunciare... Alla mia idea, di già. Perché... Si sta arrivando un pochino problematica. Allora, facciamo così. Saliamo un po'... Scaliamo un po' questa montagna. Senza morire. Ok, ok, ok. Adesso, vediamo un pochino cosa si può fare per bloccare il flusso della lava per qualche secondo. Vabbè, molto semplicemente si può fare... Si può fare... Così. Allora, così. Ole. Dovrebbe bloccarsi, no? Certo, ci metterò un pochino, però è tutto normale. Io lo sto a istituire con un blocco diverso. Eh, vabbè, ho solo Cobblestone. Ho solo Cobblestone, non ci metto Cobblestone. Giusto per separare in modo tale che mi ricordi poi dove... Dove ho effettivamente tappato la lava. Allora, in questo modo dovrebbe terminare il flusso della lava completamente. E io dovrei poter tappare tutti i buchi dietro e sotto. In modo tale che la lava scorra, scorra, scorra. Mamma mia, cosa oggi? Oggi sono dislessico. Sento di discheletri, ma non li vedo. Dai. Dai, più veloce. Più veloce. Ah. Che palle. Mamma mia. Sento che oggi morirò un bel paio di volte. Un bel paio di volte. Ma proprio molte. Ce la puoi fare entro oggi? Guarda, come se ci sono già dei buchi giganteschi là dietro. Ecco perché non riuscivo a farla scorrere in modo decente. In questo caso potrei riuscire a fare tutto completamente prima di riaprire il flusso. Cioè senza dover riaprire il flusso un paio di volte, ma direttamente riempendo qui. Dai. Togliti anche tu che ho paura. Ho tanta paura. Allora. Riempiamo qui. Purtroppo sono costretto. L'entrata sarà tipo, non lo so, formata da due porte, quindi... Come farò poi a separare il flusso qui? Allora, il flusso arriva da lì. Scende tutte queste colline. Poi devo creare qualcosa che blocchi il flusso. Circa... Allora, facciamo conto che questa sia l'entrata. No, che quella sia l'entrata. Allora, questo non ci deve essere. Questo non ci deve essere, non ci deve essere, non ci deve essere, non ci deve essere, non ci deve essere. Eccolo lì il bastardello. Ma ciao! Ciao! Ciao scale. Skill school school. Ehi, ciao. C'erano altri spawner come minimo. Allora, l'entrata dovrebbe essere tipo così. Così, così, e così. L'entrata qui... Quindi, se l'entrata è lì, la lava dovrebbe scorrere tipo... Diciamo così. Un po' in diagonale, capite? Così, è fermarsi in un laghetto laterale. Non lo so, poi quello lo vedrò. Resta il problema della funzionalità. Cioè, come razzo faccio a bloccarlo in quel modo? Naturalmente devo cercare di fare qualcosa di non perfetto. Nel senso, qualcosa, capite? Un po' che sembri un po' naturale. Certo, sarà difficile visto che non ho tutta questa bravura e fantasia. Però, cioè, già è difficile quello che devo fare. Però lo vorrei fare un po' più largo. E poi un po' non squadrato, come posso dire. Cioè, tipo così, così. Così, così, così. Che attacchi d'arte che mi vengono ogni tanto. Ecco, così, così. Olè. Ora, vediamo un po' come si può fare. No, questo qua non ci sta a fare un numerito arazzo. No, in realtà sì, dai. È questo che non ci sta a fare niente. Deve essere qualcosa di funzionale. Allora, scorre lì. Scusate se lo ripeto mille volte, però è il dubbio che mi assale. Allora, potrei fare una collinetta così. In modo tale che la lava, passi lì. Poi una volta passata lì, la blocco in qualche modo. Oppure, oppure, togliamo tutta questa merda. Così. E potrei bloccarla già dall'alto, in modo tale che scorra qui direttamente, no? Fatemi pensare. Allora, scorre qui. Fa blu 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 blu. Ehi, ciao, sono la lava. Qui potrei distruggere un po'. Abbiamo degli stick, naturalmente no. Non lo voglio di andare a casa, quindi me li prendo. Ok, vado a casa. Che scansa fatiche che sono. L'idea è quella di bloccarla già dall'alto, in modo tale che, poi una volta arrivato a terra, non crei problemi. In che senso? Adesso ve lo faccio vedere. Se io creo, eh, dei passaggi, dei, come dire. Avete presente il letto del fiume? Ecco, un letto di lava. Il letto della lava. Se io creo un letto qui, in modo tale che poi cammini da sola verso qui, sarebbe molto più comodo, no? Tipo un ruschiello. Allora, fatemi pensare. No, allora, qui deve essere chiuso assolutamente. No, non così. Direi tipo così. Così. Io, naturalmente, sto immaginando, perciò non posso, cioè, non so come farvelo capire, perché la mia mente è molto contorta, molte volte. Quindi potrebbe essere un'emerita cazzata. Delle scale, tipo, cioè, non scale, però, più o meno è quella l'idea. Ecco. Ehi, fraps. Grazie. Allora. Questi, molto in profondità. Qua dovremmo tappare un pochino, naturalmente, perché, come vedete, c'è una caverna, come avrete già visto mille volte. Naturalmente questa è soltanto una prova funzionale, perché poi modificherò in modo da renderlo più carino esteticamente. Tipo qua lo allargo un po'. Ecco, così. Direi di farlo da tre. Dove, dove si trova il flusso? Ma sì, dai, allarghiamo. Come vedete ci sarà un bel po' di lavoro da fare, però, però sarà, secondo me, uscire una cosa abbastanza, abbastanza bella, abbastanza fatta bene. Oddio, fatta bene no, perché la sto facendo io, però, mamma mia che poca considerazione che ho di me stesso. Allora, ecco, qui troviamo il primo problema. Come faccio a far arrivare la lava proprio qui? Cioè, qui dentro questo bacino artificiale? Perché se io la faccio scendere va direttamente giù, a meno che non crei un'altra cosa qui, ma sarebbe un po' bruttina. Quindi, e se io facessi qualcosa di un po' artificiale, anche sul getto della lava? A meno che no, dai, la blocco lì, la blocco lì. Dai, 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 dividiamo un po'. Ehm, come posso fare per verificare? Allora, scenderà sicuramente qui. Poi, se io da qui riuscissi a bloccare il flusso in questo modo, Allora, arriva qui. Poi cosa fa? Si separa. Scende, va per la via più semplice, che dovrebbe trovarsi circa qui. Quindi fa così, ma qui incontrerebbe già una cosa abbastanza stronza, cioè cadrebbe più in basso. Quindi, io potrei fare una cosa così. Ole, questa scende, arriva qui. Poi cosa fa? Ehi, io scendo. Scende qui. Facciamo così. Così. Questo dovrebbe già funzionare, tra l'altro. Quindi io proverei anche. Distruggiamo questo per comodità. O me l'ho dimenticato. Ehm, proviamo, dai. Proviamo perché una prova non costa niente. Però ci dobbiamo mettere in un posto sicuro. Che ci crediamo ad hoc qui. Sì, credo che possa funzionare, comunque. Ehm, eccomi qua, scusate. Allora, come vedete, il flusso sta andando bene. Devo soltanto fare una cosetta qui, tipo... Ehm, io direi di fare la vasca un po' più profonda. In modo tale che poi ci faccia un buco qui e scivoli bene. Ehm, tanto poi, una volta riempita diventa abbastanza bellina in ogni caso. Allora, vediamo un po' se ci riusciamo. Non mi ricordo esattamente quanto sia il flusso della... Della lava. Cioè, quanto lontano può andare il flusso della lava. Ehm, perciò farò un pochino a... A braccio, come si suol dire. Cioè, vedrò un pochino come va la situation. Se no, alzo un pochino lì, magari. Vediamo un po'. Non riesce a riempirlo. Allora direi... Oh, fuck. Direi di andare qui. E scavare un pochino. Olè. Allora, facciamo così. Ok. E poi così. E direi di scavare un pochino qui. In modo tale che scenda più velocemente la lava. Dovrebbe scendere più velocemente la lava. E magari riesco anche a farlo riempire. Sapete, l'idea è quella. Se no, riempicciolisco la vasca perché non ho voglia di creare troppi problemi, capite? Già così è un po' bruttino comunque, eh. Se io distruggo questo si riempie anche qua. No, naturalmente. Ah, qui non c'è niente. Qui c'è qualcosa. What? Cosa ho combinato? No! Cazzo, è vero. No! Ok. Ecco. Se facessi un attimino così potrei vedermi un pochino dove sto scavando, no? Ecco. Così magari funziona meglio. Dai, vediamo un po'. Naturalmente lo miglioro. Questa struttura è soltanto fatta per il momento, sinché non si crea un flusso automatico. Poi dopo troverò un modo per... Per tenerlo costante ma sempre figo. Ma ho per caso distrutto qualcosa che non dovevo? No, perché non mi è sembrato che ci fosse qualcosa sotto. Aha, c'è il trucco. Olè. Dovresti tipo camminare, sai. Sai. Ehi. Però non mi piace questa vasca troppo profonda, che sapete. Mmm, fa un po' cagare. Ehm, fa un po' cagare. Perché in realtà non era l'idea principale questa, nel senso... Ah, forse dovrei portare più in alto. Allora, mettiamoci in sicurezza un attimo. E porto più in alto la... La lava. Così. Dai. Io ho paura. Ho tanta paura. Oh fuck. Oh fuck. Aia. Aia. Dai. Dai. Allora, se la porto più in alto potrei... Cioè, potrei riuscire a fare... Ehm... La vasca dei misugni. No, ok. La vasca è fighissima. Ehm, perché... Allora, fermaci... Fermaci un secondo. A me non piace così basta. Non avrebbe senso, perché non si vede neanche la lava da lontano. Contate che al posto di questi blocchi qua vedrete delle fence, non so, ancora devo decidere. Qualcosa che mi faccia vedere bene cosa sta succedendo di fianco. Oh no. Oh sì, oh sì. Certo che sì. Allarghiamo un po' qui. Poi, alziamo un po' questo. What? 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 Ma perché mettono queste novità di merda? Io vado a dormire per... Per... Perché ho paura... Tantissima paura. Cioè, un creeper che ti mette nausea non l'ho mai visto. Che cazzo, arola. Ah, vabbè. Siamo quasi a fine puntata, cazzo. Non abbiamo fatto niente neanche questo. Cioè, nel senso, non abbiamo... Non siamo riusciti a fare niente. Non sono riuscito a fare niente. Allora, qui deve esserci qualche buco, come minimo. Ah, cazzo, cazzo, cazzo. Allora, dire... Dire che questa storia di allargare potrebbe funzionare, sapete. Ma... Ho lasciato qualche buco là, non lo so. Perché vedo che non scorre qui. Non scorre niente. Ecco, ecco. Ecco, forse ci sono riuscito. Ole. Ora, io allargo sempre di più di... Di lato. In modo tale che si riempie sempre di più la vasca, no? La vasca, come volete chiamarla. Ah, questo non ci sta a fare un amerito, cazzo. Ok, ok. Ci siamo quasi, eh. Stiamo per arrivare al risultato non sperato, però... Che le assomiglia, diciamo. Perché quello sperato era molto più figo. Questa è un po' una cagata. Però, vabbè. Vediamo un po' cosa succederà e... Casomai lo rifaccio o... O l'idea verrà bocciata. Allora, il lago potrebbe anche andare bene così. Potrei anche rimpicciolirlo per... Far sì che funzioni già così. Vediamo un po'. Sì, ma dai. Rimpiccioliamolo a misura. Ole. Dai, comunque è figo, no? No? Dite di no? Ora, eh... Io non so cosa... Come altro farlo. Cioè, nel senso... Ah, questo si può distruggere, giusto? Vediamo un po'. Stradipa, non stradipa. Poi, quello suppongo che possa essere distrutto, ma non ne sono sicuro. Perciò ci teniamo a distanza di sicurezza e pronti a ripiazzare il blocco nel caso... No. Ok. Allora, lassù dobbiamo distruggere un pochino quella struttura di merda che... Oddio, ce la posso fare. Ole. Ok. Smettila di laggare. Smettila di... Smettila di laggare. Dai, 30 fps. Niente. Mi cade da 300 fps a 30 con FRAPS. Probabilmente... Probabilmente il problema è proprio FRAPS che ha quella metodo di registrare. Che, in pratica, siccome non comprime... Allora, succede che quando registra, se noi impostiamo di registrare a 30 fps, limita un bel po' gli fps, mi fa un po' incazzare questa cosa. Però, per adesso mi devo contentare perché non riesco, ve l'ho già detto, non riesco a far funzionare l'altro. Allora, prossima cosa da fare. Far cadere la lava qui. Ok. Sembrerebbe semplice, ma non lo è. Allora, vediamo un pochino cosa ne esce. Io adesso provo a fare di nuovo il tunnel, quello che ho fatto anche nell'altra vasca. Qua potrei fare anche una bella cascata, ecco. Ma sì, secondo me potrebbe andare. Olè. Olè. Allora, vediamo un pochino come crearla. Allora, qua si può allargare. Sì, si può allargare. Olè. Questo va tolto. No, vabbè, neanche tanto perché queste pietre messe in mezzo così creano una cosa che quando arriva la lava in pratica si allarga. Ed è quello che serve a me. Infatti farò anche così. Molto anche faccio... In realtà no, sarebbe da mettere dall'altra parte. Quindi è un po' una grandissima cagata. Però vabbè. Allora, allora, allora. Fatemi pensare. Innanzitutto. Io arrivo. Quindi. Questa colonna qui non mi serve proprio per niente. Olè. Anzi, qui lo lascio giusto per... No, no. Qui non è una buona idea mettere questo blocco. Diciamo che lo metto... Vabbè. Lo vedremo quando farò scendere la lava. Allora. Ora non resta che cercare un modo per far scendere... Calmi. Con molta tranquillità. Ok. Non resta che trovare un modo per far scendere la lava anche a destra. Però senza che stralipi. Come facciamo? Non si sa. Porca miseria. Come ho fatto qui? Ho semplicemente messo un blocco qui. Così a cacchio. A membro di seg... A membro di segaggio. Allora. Se la faccio scendere qui mi va in casa. Però se io faccio così... Così. Poi allargo un pochino qui. Allargo un pochino questo muro. Dovrei potercela fare. Vediamo un po'. Sono un po' nella merda per il caso. Dai. Dai. Oh fuck. Perché non scende? Credo di essere un po' nella merda più totale. Ehi. Dai. Ehi. 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 Perché non scendi? Che succede? Che succede? Non c... Porca puttana scende. 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 Arriva. Ora vediamo un po' chi non doveva finire. Se cade giù... Eh, cade giù. Porca merda. Eh. Beh, mi pare anche normale, no? Oh cazzo. Sto facendo un casino, lo sapete? Quello che devo fare è farla scendere qui. Quindi devo allargare qui. Ma qui è aperto, o sbaglio? Non sbaglio. Beh. 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 Ci siamo quasi comunque. Vediamo un po' se ho beccato. Sì. Mi sa che ho beccato il buco. Allora, vediamo un pochino. Dalla diversa angolazione come si vede. Poi chiudo anche la puntata. Ah, porca miseria. Ecco cos'è il problema. Allora. Devo tappare. Dai, ti prego. Olè. Vediamo un po' se ce la faccio da qui. Eh, forse mi sa che ho beccato il coso giusto. Oh merda. Sto mettendo fuoco tutto. Cazzo, non ci ho pensato al legno. E come faccio a gestire la cosa del legno? Ma soprattutto, perché non smettere il flusso? Ehi. 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 Ma, mi ha già rotto un po' le balle che sta là. Quasi quasi le elimino dalla faccia della terra, sapete? Cioè, quello può anche starci, ma neanche, cioè. Oh, senti, vaffangulo. Vediamo un po' se riesco a eliminarlo, perché non è neanche detto quello, capite? Perché certe volte resta come qua, per esempio. Io adesso qua non so come fare. Ah, ma forse perché arrivo ancora da qui. Olè. Olè, vediamo un po'. Ok, dovrebbe smettere di scendere anche da qui. Ho eliminato l'idea della lava. Quindi ho eliminato anche l'idea dell'entrata laterale così. Quindi l'entrata sarà questa. Quindi la casa sarà da qui, al centro. E già questa cosa mi piace, perché mi piace la simmetria, come sapete. Ho messo fuoco un albero senza corgione, quindi lo distruggo. Nella prossima puntata probabilmente avrò la Tricapitator. E questo mi piacerà moltissimo, piacerà moltissimo anche a voi. Sarà un po' un'annerfata megagalattica. Però, cioè, praticamente sarebbe una specie di cheating, anche se non lo è. Un cheating legale, tra virgolette. Eh, però... Chi se ne fotte proprio? Non se ne fotte proprio, cioè. Eh, niente. Io sono SpiegaronTotto. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi, condividete. Mi trovate sempre su Twitter, Google+. O sul mio sito spiegaronTotto.x10.mx O su Facebook, digitando Facebook.com slash spiegaronTottoOfficial. Io sono SpiegaronTotto. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video di Tecna. Ciao! Oddio, ora mi toccherà ricostruire tutto sto muro. Merda.